Nel centro storico di Castellabate, nei giorni di pioggia, si può ammirare una vera e propria cascata, la cascata di Piazza Matarazzo. A evidenziarlo in un comunicato stampa il consigliere di opposizione Luigi Maurano del comune di Castellabate. Qui tutte le acque piovane della zona continua a Maurano vengono convogliate sulle scale della via pubblica sottostante. Questo fiume in piena passa vicino alle abitazioni impedendone l'uscita e l'entrata, una situazione inconcepibile in una società civile, il rischio è elevato. La cosa ancora più preoccupante e rilevante, sottolinea il consigliere, è che gli abitanti della zona da più di un anno segnalano agli amministratori comunali tali criticità. Ad oggi, tranne qualche sopralluogo, niente di concreto è stato fatto. E poi, se aggiungiamo che proprio nella stessa zona la linea fognaria sembra essere rotta in tre punti, con conseguente perdite che si infiltrano nelle pareti dell'abitazione sottostante, capirete l'intollerabilità e l'esasperazione dei cittadini. Per tale motivo, mette in evidenza il consigliere, ho presentato una specifica richiesta di risoluzione immediata e definitiva di questi problemi. Ne va della sicurezza e della salute dei cittadini, facendo rilevare che le risorse per tali interventi possono essere reperiti nel bilancio comunale, dato che per situazioni non certo primarie vengono spese ingenti risorse.